Il film esce in tutte le sale sabato 2 settembre distribuito da altre storie in concomitanza con la proiezione pomeridiana alle ore 17 nella sala d'arsena Venezia per la sezione orizzonti. La Giulia che assegnerà i premi nella sezione orizzonti è preseduta per questa edizione della mostra del cinema da Gianni Amelio ed è composta dagli autori e registi cinematografici Rashkan Bagnet-Mad, Ami Khan-Man, Marc Cousins, André Duprat, Finn Troc e Rebecca Zrotowski. 19 in tutto i lungometraggi in gara per la sezione orizzonti. La vita in comune di Winspear è la storia poetica che si svolge nel paese immaginario di Disperata, un piccolo centro nel sud Italia dimenticato da Dio dove un sindaco malinconico e poeta trova consolazione agli attacchi di tutti i consiglieri facendo volontariato in carcere. Lì il suo più attento allievo è Pati Runza, pregiudicato, temuto e rispettato nel paese. Pati si convertirà alla poesia e l'incontro con l'arte cambierà tutti e porterà ciascuno a compiere scelte coraggiose. Prodotto da Stagietta Film con Rai Cinema e scritto dallo stesso Winspear e Alessandro Valenti, il film è stato girato tra Tigiano, Corsano, Gagliano del Capo e Salve e realizzato in associazione con la Banca Popolare Pugliese Oxe Estate in collaborazione con Tea Time Film e con il supporto della Puglia Film Commission.